Benvenuti a questa pagina dell'informazione, apriamo con la possibilità appunto di riavere la distalazione tramite il distalatore con questi moduli mobili. Questa ipotesi è emersa nel corso del sopralluogo che è stato fatto ieri proprio all'impianto di distalazione presente nel territorio della città di Trapani. Vediamo. Il sopralluogo ha riguardato sia il distalatore che la stazione di pompaggio che si trova dentro la riserva delle saline vicino al fiume Lenzibaiata. Al momento l'ipotesi è quella di noleggiare dei moduli mobili e temporanei trasportabili con dei tir utilizzando le opere di presa a mare del vecchio distalatore. Queste strutture mobili di distalazione verrebbero quindi agganciate alla condotta idrica dell'impianto in modo da fare arrivare l'acqua nel territorio non solo in quello del Trapanese. Si parla infatti di una portata idrica di 500 litri al secondo che permetterebbe di rifornire anche Palermo attraverso una interconnessione con Alcamo ma questa sarebbe una soluzione tampone da mettere in pratica nell'arco di 3-4 mesi per fronteggiare l'emergenza estiva. Nel lungo periodo c'è da vedere invece se si deciderà di puntare su una manutenzione straordinaria del vecchio distalatore fermo da 10 anni e di fatto inutilizzabile per come stato ridotto tra furti e danneggiamenti. Sesto discorso per la stazione di pompaggio. Anche qui i danni sono ingenti ed escludono ogni possibilità di un suo ripristino nel breve periodo. Anche in questo caso sembra che si vada verso un modulo mobile temporaneo. Altri sovralluoghi sono in programma nei prossimi giorni probabilmente già domani lunedì per valutare il da farsi con l'obiettivo di entrare in una fase operativa che porti nell'arco di 120 giorni all'attivazione di questi moduli mobili temporanei per fronteggiare l'emergenza. Si tratta di strutture che utilizzano tecnologie più moderne e meno impattanti anche per quel che riguarda i costi di gestione e l'utilizzo dell'acqua del mare per rassicurare l'erogazione idrica funzionando a corrente elettrica e non a gas come il vecchio distalatore di Trapani con costi di bolletta che ai tempi si aggiravano sui 25 milioni di euro l'anno. L'ottimo servizio di Mario Torrente era la nostra notizia del giorno, tutte le altre notizie tra poco nella prima edizione. I titoli di oggi al via, i lavori alle mura, Elimo puniche, le fortificazioni di Erice saranno al centro di un intervento di consolidamento e restauro. Rifiuti al centro, via Calvano, una delle vie più storiche della città di Trapani, continua ad essere presa di mira dai civili che gettano immondizia di ogni tipo. Il giardino della memoria e della legalità, iniziativa dell'associazione Eritros a Trapani nell'area che si trova tra le vie Livatino e Mauro Rostagno. Ed ancora la tutela del territorio, l'associazione Italia Nostra segnala la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione del canale di Gronda di San Giovannello in territorio ericino. Per lo sport, invece, pronte all'assalto, dopo quasi un mese di inattività, causa nazionali, sabato la handball Erice tornerà in campo, al Palacardella arriva Dosso Buono. E poi l'approfondimento, lo dedichiamo appunto a questa domanda, che fine hanno fatto le vie di fuga, se lo chiedono i residenti di Piano Guastella e Martogna ad Erice, che a nome del comitato da loro fondato intervengono per la sicurezza pubblica. Sonteremo l'argomento appunto nell'approfondimento. Ad Erice, invece, al via i lavori di restauro e consolidamento delle ultramillenarie mura Elimo Punica. L'intervento è stato disposto dal Comune di Erice ed è stato finanziato con fondi del PNRR per un importo di circa 2 milioni di euro. I lavori sono già stati consegnati all'impresa che si è giudicato all'appalto. Si è dunque nella fase operativa con il cantiere prossimo a partire. Il rupe del progetto è Andrea Denaro, mentre il direttore operativo è Giuseppe Rigotta. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria alla ultramillenaria cinta muraria della città del Monte. Il progetto, predisposto dall'architetto Pietro Sciacca, rappresenta il primo lotto esecutivo dei lavori di restauro e consolidamento delle mura Elimo Punica ed Erice, uno dei più importanti monumenti archeologici di epoca antica in Sicilia. In questa prima fase del progetto, elaborato sulla base di un'accurata relazione archeologica, gli interventi previsti riguardano soprattutto la sicurezza strutturale, con tecniche di restauro ecocompatibili e la pulizia delle aree limitrofe da piante impestanti. In una fase successiva, dopo la verifica con la soprintendenza e beni culturali, sono previsti altri interventi, ovvero eventuali scavi archeologici, pannelli didascalici, recupero e riqualificazione dei percorsi, il consolidamento delle sottomurazioni, un impianto di illuminazione, indagini specialistiche, la catalogazione delle statificazioni murarie e la creazione di un sito internet dedicato all'importante monumento archeologico. Distalatori mobili, nuovi pozzi, sono queste le prime soluzioni individuate dalla cabina di legge istituita alla regione siciliana per fronteggiare la crisi idrica. Vediamo. Nuovi pozzi e rigenerazione di altri pozzi e sorgenti esistenti, pulizia delle traverse, dei corsi d'acqua, distalatori mobili e piccoli interventi per il ripristino delle autobotti comunali. Sono alcune più rapide soluzioni individuate dalla cabina di regia regionale per l'emergenza idrica, riunitasi ieri pomeriggio a Palazzo d'Orleans. La struttura, preseduta dal governatore siciliano Renato Schifani, coordinata dal capo della protezione civile regionale che riunisce competenze tecniche, accademiche e scientifiche, sta mettendo a punto il piano di interventi e dei relativi corsi da inviare a Roma per la valutazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità, già richiesto dalla giunta regionale. sta operando anche a livello provinciale con nuove tavoli di lavoro con ingegno civile, protezione civile, autorità di bacino e consorsi di bonifica. Nel dettaglio, le proposte con efficacia e immediata per la mitigazione dell'emergenza idrica riguardano la rigenerazione di una cinquantina di pozzi e sorgenti esistenti ad uso idropotabile, l'individuazione di un centinaio di siti vicini a condutture e linee elettriche in tutta la Sicilia in cui scavare nuovi pozzi ad uso irriguo, salvaguardando così le scorte idriche presenti nelle dighe da destinare esclusivamente per la popolazione. Inoltre, sono previsti interventi su impianti di pompaggio e condutture, operazioni di sfangamento di sé traverso i fluviali, finanziamenti per la riattivazione delle autobotti in una sessantina di comuni. Sul fronte di salatori si lavorerà nell'immediato con l'acquisto e l'installazione di moduli mobili nei siti esistenti, nell'attesa di poter procedere alla sostituzione degli impianti fissi a Bortempedocle, Trapani e Gela, dove i tecnici della task force in queste ore stanno effettuando ispezioni. Una soluzione importante e di ridotto impatto economico per dare respiro all'agricoltura della piana di Catania potrà arrivare dalla riparazione di alcune paratie su ponte Barca, dove già domani verrà verificato se è possibile utilizzare un flusso d'acqua aggiuntivo di circa 500 litri al secondo, sfruttando la pendenza. Un altro sostegno per l'agricoltura potrà arrivare una volta dichiarato lo stato di emergenza nazionale anche da eventuali deroghe per l'utilizzo dei fondi del PSR. A Travali invece in Via Calvano alcuni cittadini hanno segnalato un costante abbandono di rifiuti in un cantiere di lavoro che è stato a sua volta abbandonato. Via Calvano nel pieno centro storico è sicuramente un luogo pieno di storia, una delle strade più antiche di Trapani e una delle vie preferite per chi vuole abbandonare i rifiuti. Sono tanti infatti i cittadini che segnalano lo stato di abbandono della via che si trova proprio a pochi passi da Corsa Italia e Via Mercea. Giorno per giorno si accumulano rifiuti di ogni genere che incivili gettano soprattutto dentro un cantiere di lavoro realizzato quattro anni fa dove nessuno lavora e che oggi è pieno di immondizia varia. Una situazione che chiaramente disturba i residenti della zona che ogni giorno devono avere a che fare con l'incuria di alcuni cittadini che prendono di mira questa via. Già nel 2022 però il sindaco Giacomo Tranchida e l'allora assessore all'ecologia ambiente di Niro Romano avevano effettuato un sopralluogo in alcune strade del centro storico comprese tra Vicolo Bardai e Via Catito, proprio sollecitati da varie segnalazioni degli abitanti e avevano riscontrato diverse criticità. Per questo motivo erano stati assunti alcuni provvedimenti come la rimozione immediata di ogni tipo di rifiuto abbandonato, la fissione di telecamere qualora fosse stato possibile e l'eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica compreso lo smontaggio di vecchi ponteggi che si trovavano in cattive condizioni. A distanza di due anni, proprio grazie ad alcuni provvedimenti dell'amministrazione, la situazione è cambiata, meno drastica ma ancora non del tutto risolta. E' chiaro insomma che i controlli e le sanzioni non bastano e i cittadini sono ormai stanchi di avere a che fare con gli incivili che non amano trapani. Sotto il suggestivo titolo del Cuore nella Donna, ieri pomeriggio si è tenuta una conferenza sulle malattie cardiovascolari al femminile organizzata dall'Associazione Mogli Medici Italiane Donne per la Salute. Vediamo. Si intitola Il Cuore nella Donna, il convegno che si è tenuto nell'Aula Sodano di Palazzo D'Alia a Trapani. L'evento organizzato dall'AMMI Donne per la Salute, Associazioni Mogli Medico Italiane Sezione di Trapani impegnata da sempre nella sensibilizzazione e nella prevenzione delle malattie al femminile. In occasione appunto della giornata di salute della donna nazionale abbiamo voluto quest'anno fare un incontro di divulgazione sul problema della prevenzione del rischio cardiovascolare nella donna. Il cuore della donna è un organo strano, ci fa vivere, innamorare però purtroppo ci fa anche morire. Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di decesso in tutto il mondo e si stima che su 2 milioni di morti per causa cardiaca il 54%, quindi più della metà, sono donne. Preseduto dalla Presidente AMMI, Dottoressa Maria D'Amico di Benedetto, il convegno ha visto la partecipazione di esperti del settore cardiovascolare, cui l'incontro in tema di prevenzione è stato dedicato. Tra questi la Dottoressa Giovanna Geraci, direttrice dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia presso l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. La prevenzione, soprattutto declinata al femminile, deve fare attenzione a molti fattori di rischio che sono comuni a tutti, uomini e donne, fumo, diabete, colesterolo, pressione alta e quant'altro, ma anche nella donna a cose più specifiche che sono in parte legate all'essere donna in sé, tutto quello che può essere i problemi durante la gravidanza, l'ipertensione in gravidanza, il diabete in gravidanza, eccetera, sono cose che nel prosieguo della vita possono portare a problemi di cuore, quindi bisogna attenzionare questo aspetto. L'altra cosa è che ci sono aspetti invece di fattori di rischio che non sono solo femminili ma più frequenti nella donna. Parlo per esempio di fontesti di tipo psicosociale, per esempio la depressione è un fattore molto più frequente nella donna che si ha mal di cuore rispetto all'uomo, ma il messaggio che io vorrei far passare è soprattutto quello che la donna non è, come si crede generalmente, meno esposta dell'uomo alle malattie di cuore, lo è, tanto quanto soprattutto dopo la menopausa, ma anche prima bisogna stare attente e quindi è importante avere consapevolezza di questo rischio cardiovascolare perché le malattie di cuore sono comunque ad oggi il primo killer in assoluto della popolazione, sia maschile che femminile, e forse più per la donna che per l'uomo. E quindi iniziative come queste servono proprio a risvegliare le coscienze anche di noi medici, perché anche noi a volte pecchiamo nel dare responsabilità in alcuni sintomi che potrebbero essere sintomi anche di infarto, invece a una condizione magari di ansia o di altro rispetto alla donna. La verità è che la donna in alcuni casi ha una manifestazione un po' diversa da quella dell'uomo e quindi alcuni sintomi sono più sfumati, il dolore può essere meno classico, meno tipicamente al centro del petto, può essere sostituito soltanto dall'affanno o dalla stanchezza estrema, tutto questo deve comunque accendere campanelli di allarme sia nella donna stessa che nei medici che la soccorrono. Tutte le altre notizie tra poco nel prossimo blocco informativo. Adesso parleremo di questa iniziativa dell'associazione Eritros Trapani con il giardino della memoria della legalità che si trova tra le vie Livatino e Rossagno e poi andiamo a vedere la proposta di Italia Nostra che torna sulla necessità di realizzare un canale di gronda a San Giovannello in territorio di Erice e poi andiamo allo sport con la handball che ritorna a giocare e ospiterà Dossobuono al Palacardella di Erice. A Trapani invece nasce il giardino della memoria e della legalità, vediamo di che si tratta. Nell'area verde che si trova tra le vie Rosario Livatino e Mauro Rostagno a Trapani nei pressi della via Salemi sta prendendo forma un giardino per ricordare le vittime della criminalità mafiosa e gli eroi civili del nostro territorio. Nasce a Trapani su proposta dell'associazione Eritros il giardino della memoria e della legalità autorizzato con delibera comunale numero 62 del 17 novembre 2023. Il progetto prevede la messa di mora di alberi in ricordo delle vittime della criminalità organizzata. Ogni albero scelto dai familiari delle vittime ove possibile avrà la targa con nome data di nascita e di morte degli uomini e delle donne cui esso sarà dedicato. Rimarrà così un insegno tangibile del loro sacrificio per l'affermazione dei principi della legalità e dell'agire per il bene comune. Alla realizzazione del progetto ha partecipato attivamente l'associazione Oasi Zen di Trapani con la donazione di quattro alberi, un mandorlo alla memoria di Persanti Mattarella, un carrubo alla memoria di Mauro Rostagno, un olivo alla memoria di Paolo Borsellino, un olivo alla memoria di Giuseppe Montalto. L'associazione Eritros ha provveduto alla piantumazione di cinque alberi, un cipresso alla memoria di Ceccio Montalto, tre melograni alla memoria di Ninovia, un pruno alla memoria di Rosario Livatino. Nella prossima stagione autunnale saranno messi a dimora due alberi di fico alla memoria della famiglia Asta, un albero di ficus alla memoria di Giovanni Falcone. L'associazione Eritros, nel ringraziare l'amministrazione comunale per l'autorizzazione concessa, ne auspica la partecipe gestione del giardino nel proseguo con la regolare manutenzione dell'area. Tra gli obiettivi dell'iniziativa che anche i residenti della zona contribuiscono a mantenere il decoro e la pulizia del giardino. Per le nuove generazioni si legge in una nota che non hanno vissuto il periodo delle stragi mafiose numerose in questo territorio. Per gli adulti ed anziani che ne hanno consapevolezza su stare in futuro all'ombra delle loro fronde sarà un invito a rimanere vigili, a non abbassare mai la guardia verso ogni forma di illegalità. Un canale di Gronda è necessario, lo si sta dicendo da più parti, adesso interviene anche Italia Nostra con questo convegno che si darà oggi pomeriggio nel quale viene sottolineata appunto la necessità di ripristinare il canale di Gronda proprio in territorio di Erice in località San Giovannello. Passano gli anni e si torna a parlare sempre più dell'importanza dei canali di Gronda per evitare i gravi rischi a causa delle bombe d'acqua. Una soluzione che secondo la sezione trapanese di Italia Nostra, l'Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della razione, è necessaria ma soprattutto urgente. Nel settembre e nell'ottobre del 2022 a Trapani c'è stata ancora una volta un'alluvione che ha creato danni importanti. Per esempio è crollato il ponte sul fiume Verderrama, e non solo. Tuttavia danni assai più gravi c'erano stati negli anni precedenti, nel 65, nel 76, c'erano morte delle persone. Nel 2022 invece no. Perché? Perché negli anni 80 è stato realizzato un canale di Gronda dal lato di Ponente che ha deviato l'acqua che scendeva a Trapani nella deviata verso il mare. Poi è stata realizzata la diga di Paceco che anche questa ha regolato l'acqua in eccesso impedendo di allagare la frazione di Chisitta e le Saline. Manca però un pezzo importante, manca un canale sul lato di San Giovannello che devi l'acqua che scende dalla montagna di Erice e la devi sul fiume Lenzi. Noi come Italia Nostra stiamo chiedendo che si realizzi questo canale di Gronda che è progettato, presente nel piano regolatore di Erice già dal 2010 e che finalmente insomma si ponga un rimedio pressoché definitivo al rischio idrogeologico al quale il soggetto Trapani è da parecchi decenti. Ed è proprio questo l'argomento del convegno che Italia Nostra terrà oggi pomeriggio? Sì, il convegno si terrà oggi pomeriggio con un inizio alle 16.30. Abbiamo invitato parecchi professionisti di notevole qualità che daranno un contributo importante che ci aiuteranno a ragionare insieme su come tentare di superare in via definitiva il rischio idrogeologico di cui parlavo prima. Si terrà alla scuola il istituto comprensivo pagoto a Casa Santa. La definiscono ormai con questo inglesismo spring break cioè la pausa di primavera e sarebbe questo ponte lungo tra il 25 aprile e il primo maggio. Trapani risulta tra le mete più ambite per trascorrere appunto questo spring break. Con l'avvicinarsi del ponte del 25 aprile e del primo maggio gli italiani si preparano a godersi un lungo periodo di vacanza abbracciando la tradizione dello spring break con entusiasmo sempre crescente. Secondo i dati forniti da Hotels Italia e Malta la tendenza verso destinazioni nazionali è in netto aumento con una particolare attenzione per città meno battute dal turismo di massa. Tra le mete più ambite spicca Trapani che insieme a Raguse e a Cireale attrae sempre più viaggiatori desiderosi di esplorare luoghi nuovi allontanandosi dalle classiche rotte turistiche scoprendo autentici tesori nascosti. Il CEO di Hotels Italia e Malta Sara Di Gesi sottolina come l'interesse per le mete meno note stia diventando sempre più rilevante riflettendo un desiderio diffuso di evitare l'over turism ed immergersi in esperienze autentiche e suggestive. La Sicilia con le sue meraviglie naturali e culturali rappresenta un'opzione allettante sia per gli amanti del mare sia per coloro che prediligono un turismo culturale più ricco. L'entusiasmo delle vacanze di primavera si riflette anche nelle prenotazioni che registrano un aumento significativo rispetto all'anno precedente. Le coppie mostrano un interesse crescente per soggiorni più lunghi più 14% mentre le famiglie e i piccoli gruppi non vedono l'ora di vivere un'esperienza indimenticabile durante questi giorni di festa più il 27%. Oltre a Trapani altre mete molto richieste includono le classiche città d'arte come Roma, Venezia e Firenze insieme a destinazioni costiere come la riviera Ligure e la riviera Romagnola. Anche le città toscane come Siena e Lucca, così come le località campane come Napoli e la costiera amalfitana, godono di grande popolarità tra viaggiatori italiani in cerca di avventure primaverili. I borghi d'Italia registrano 9 milioni di turisti, rimanendo il tema appunto di preferenza. Queste sono le presenze del 2023. In Sicilia spiccano Erice e Salemi. Nel giugno dello scorso anno la regione Sicilia ha destinato un bonus economico pari a 750 mila euro a 23 comuni della Sicilia insignati del prestigioso riconoscimento di Borgo più bello d'Italia o di Borgo dei Borghi, tra cui spiccano Erice e Salemi. Questo stanziamento mira a valorizzare i punti di eccellenza siciliana e a sostenere la sempre maggiore qualificazione dei piccoli borghi e delle comunità che, conservando intatta la propria identità storico-architettonica, rappresentano dei veri e propri attrattori turistico-culturali, attirando visitatori sempre più orientati alla scoperta di luoghi caratterizzati da una forte autenticità. Iniziative come i Borghi dei Tesori e le Vie dei Tesori stanno lavorando per supportare questa tendenza, trasformando i borghi siciliani in autentici museo viventi da esplorare e scoprire, con l'obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio culturale siciliano ed offrire un'esperienza turistica autentica e convolgente. Attraverso i loro paesaggi incantevoli, la loro storia millenaria e il loro fascino intramontabile, i borghi più belli d'Italia si rivelano non solo come gioielli culturali, ma anche come motori fondamentali dell'economia regionale e nazionale. Con circa 9 milioni di visitatori all'anno, di cui il 37% provenienti dall'estero, questi borghi contribuiscono con oltre 5 miliardi di euro all'anno all'economia italiana come attrazioni turistiche di primo ordine. Marco Vulpiani, senior partner e leader a divisori economico di Deluat, ha sottolineato l'importanza di questa realtà presentando in report l'impatto economico e occupazionale del turismo e la digitalizzazione nei borghi più belli d'Italia, che evidenzia dati sorprendenti sulle risorse dei borghi italiani, un successo che si è manifestato anche in Sicilia e che è stato rappresentato anche alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 21 in diretta una nuova puntata di The Politicum. Il tema di questa sera sarà politico, la grande incognita, parliamo del centro-sinistra, comunque dell'area riformista in Italia, ma soprattutto da queste parti. Ospiti in studio ci saranno, lo vedete dalla infografica, il coordinatore provinciale di Italia Viva, provincia di Trapani si intende Nicola Rizzo, la presidente provinciale sempre di Trapani del PD Valentina Villabuona, il segretario provinciale del PSI Salvatore Galluffo e il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Patrick Cirincione. Vi aspetto in diretta alle 21 anche con le vostre domande e le vostre riflessioni sul tema. Ci fermiamo, tra poco lo sport. Iniziamo con il calcio, con Trapani Licata, partita che si giocherà sabato sera al provinciale. Sarà arbitrata dalla signor Sebastian Petrov della sezione di Roma 1, gli assistenti saranno Giovanni Fiordi di Gubbio e Alessandro Bara di Macerata. E invece adesso parliamo della handball erice, le nostre arpie hanno le ultime tre partite della stagione regolare. Sabato tornano in campo al Palacardella contro Dosso Buono. Finalmente si torna in campo, quasi un mese di inattività nel campionato di A1 femminile e la handball erice tornerà a giocare. Mancano l'appello le ultime tre giornate di campionato, due in casa al Palacardella. A cominciare da quella di sabato contro il Dosso Buono, poi i riflettori si sposteranno sul big match contro la prima in classifica Iomi Salerno. Nell'ultima la gara fuori casa contro l'ultima della classe Sassari. Michela Notarianni ha fatto il punto in casa arpie. Abbiamo lavorato molto queste due tre settimane ferme causa nazionale e abbiamo lavorato molto per perfezionare i piccoli particolari ma soprattutto per prepararci al meglio per sabato. Non sottovaluteremo assolutamente Dosso Buono, sarà una partita come le altre e cercheremo di portarla a casa. Lo scontro diretto lo aspettiamo da tanto, soprattutto per riscattarci per l'andata. Cercheremo assolutamente di dare il massimo. Come sta andando questa tua stagione Michela? Bene, sono contenta dei miglioramenti che vedo sia personalmente che della squadra e sempre di più mi trovo in sintonia con tutte le ragazze, anche con lo staff, l'allenatore, eccetera. Quindi sono molto contenta. Ma non saranno pause troppo lunghe queste che magari vi dividono da questa soprattutto fase decisiva della stagione? Sì, direi di sì. Stiamo aspettando questo momento da tantissimo tempo. Abbiamo anche l'ansia, sai. Quindi niente, aspettiamo questo da tantissimo tempo e cercheremo di dare il massimo. Cosa può dare Michela in questa ultima tranche di stagione? Cercherò di dare il meglio di me, aiutando i miei compagni in qualsiasi modo io riesca, incoraggiando sempre e mettendo in pratica quello che alla fine facciamo in allenamento. Ed eccoci all'approfondimento, oggi curato da Valeria Marrone. Il Comitato Piano Guastella e Martogna interviene nuovamente per sottoporre all'amministrazione comunale di Erice le svariate criticità del territorio. Con l'avvicinarsi della stagione estiva il sempre più crescente rischio incendi si ritorna anche a villeggiare. Così il Comitato Cittadino Piano Guastella Martogna, composto da residenti locali, torna ad affrontare le sfide del territorio già in passato sollevata all'amministrazione di Erice. Con 56 famiglie stabilmente residenti tra Martogna e Piano Guastella, la richiesta di intervento alla sindaco toscano si fa sempre più pressante. Specialmente per contrastare l'emergenza idrica e per garantire la sicurezza pubblica di fronte al pericolo incendi. Noi ci siamo prefissi alcuni obiettivi, due secondo noi sono molto importanti e cercherò di veicolare questo messaggio appunto all'amministrazione comunale. Il primo riguarda l'acqua, il secondo riguarda la via di fuga. Per quanto riguarda l'acqua onestamente noi sconosciamo anche la definizione di rete idrica, non sappiamo cosa sia, a Martogna e a Piano Guastella, come non sappiamo altresì cosa significa rete fognaria. Abbiamo proposto in passato al Comune delle possibilità. Ovviamente noi non siamo tecnici. Il primo era quello di usufruire dell'acqua che arriva a Fontana Rossa ma c'è stato riferito che il quantitativo non era idoneo, adeguato. Vorremmo proporre a questa amministrazione un'altra possibilità che sarebbe quello di sfruttare, forse molti magari non lo conoscono, il pozzo della forestale che sappiamo che è inutilizzato e acqua salmastra, sì, ma sicuramente sarebbe necessario e permetterebbe non solo di avere acqua a casa ma di poter ovviamente irrigare le proprie piante e sicuramente darebbe una mano in più ai residenti. Tre anni fa circa l'amministrazione comunale aveva approvato il progetto delle vie di fuga, però concretamente non ci sono stati passi avanti. Cosa chiedete? Noi chiediamo all'amministrazione comunale di non fermarsi al singolo progetto. Attenzione, noi ringraziamo la sindaca Daniela Toscano perché comunque ha reso possibile questo progetto. Le ha pure finanziato con un importo credo di 50 mila euro. Ben altro, dico, secondo me il comune potrebbe fare perché potrebbe pungolare gli organi competenti della regione per capire questo progetto che fine abbia fatto. Ricordo che questa via di fuga non è un capriccio dei residenti perché vogliono una strada privata, ma bensì è una necessità per la sicurezza della collettività ericina e trapanese.